Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale di Taranto finalizzati al contrasto del lavoro sommerso alla prevenzione e alla repressione dei reati nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, i carabinieri della compagna di Martina Franca affiancati dai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, nella mattinata del 16 febbraio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio cosiddetto ad alto impatto. I carabinieri hanno effettuato l'ispezione a due imprese commerciali individuali del centro abitato controllando sei lavoratori e denunciando alla procura ionica i due imprenditori fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva per presunte responsabilità in relazione a violazioni al testo unico sulle norme relative alla salute alla sicurezza e formazione dei lavoratori, alla prevenzione incendi e al controllo a distanza tramite impianti audiovisivi. Alla prima impresa è stata contestata la mancata autorizzazione per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza rilasciata dal rispettorato territoriale del lavoro di Taranto mentre alla seconda è stata contestata sia la mancata autorizzazione per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza che l'omessa a formazione dei lavoratori, la mancata visita medica sanitaria preventiva il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e la mancanza delle stinture della relativa segnaletica all'interno del locale per la prevenzione incendi. Ammonta a 30.000 euro il valore delle sanzioni combinate.